sta in piedi lui usa molto un ringhia di non giocare un ringhia di continuo che è strano non ringhiero mai no 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 e no no adesso di romano rom via non ci sono non si fa così, sei illuminato in faccia come sta studiando? il balsamico tradizionale di Modena è oro 1 litri 194 euro mi da fastidio il soffio il soffio si la fastidio si è la prima volta che abbaia stasera ma pensa a farsi questo di tantolaggio sono i tuoi piedi, cioè muoi io non lo so come cacchio ha fatto è insensibile questo o questa adesso il piede da ah ecco grazie 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 grazie